E' un tema che ha presente anche nel nostro programma che ha presentato la retezione del Vecci e quindi non potremo più dare il favorevole di tutti che ci mettono, non ci mettono da un atteggiamento ma da un atteggiamento che eventualmente lo chiamano a raggiungerci per mettere in pratica e a un atteggiamento di questo libro abbiamo già assistito, iniziamo a... ma questo credo che lo scopro lavrà lì, c'è una scoperta di rifiuti, di più o meno di rifiuti ma allora io questa delitica è quella che sta messa in pratica, anzi se lo faccio andare con alcuni organismi di divisione in quanto riguarda l'impianto finanziario, quindi appunto quello che faccio è non semplicemente ridurre questa delitica, di quanti leggermente lo vedete sul giornale ma guarda la situazione che avete chiesto il bilancio e l'anticipato in contatto allora subito che questa delitica avremmo messa in pratica che adesso quando abbiamo assistito in queste sessioni di bilancio e anche noi diciamo esattamente il bilancio, basta pensare al fatto appunto come sottolineiamo il nostro gruppo Marcello Delito e poi cittadini hanno dei miei loghi di difficoltà di assiste, che si integra in prima capiamo che ci sono delle utili di sicurezza perché le persone non possono andare tra certe persone affinché assistano i numeri contenuti da partecipazione cittadini che sono assolutamente favorita altri dubbi che ci leggo, per cui è stato fatto questo bilancio facciamo appunto che si usa la linea alla quale ha esercitato spagna e spagna ai puntuali quindi devono essere proposta e abbiamo appunto bisogno di lavorare in tutti sul fatto se si aggiorna e non parlare da precedente ma pensiamo che sempre ad una questione che abbiamo presentato in quanto riguardava la trasparenza in quanto riguardava la trasparenza in quanto riguardavano già in quanto riguardavano già in quanto riguardavano in quanto riguardavano questa nostra mozione è stata diciamo così misteriosamente è stata totalmente vociata ma potevano poterla in una certa relazione quindi appunto io potrei vedere che questa linea sicuramente più importante e che noi vediamo perché noi vediamo gli altri in base che gli presenti ma in base alla fatta se siamo così dopo le pubblicità che stanno presentando la sessione ovviamente la sessione ma ci sentiamo per condividere salvo questo conoscimento quindi appunto le fungioni 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 passare e approvare le gare una volta che viene se non vuoi dare una cosa per dire grazie grazie